Intorno alle 9 di questa mattina, a causa delle forti piogge cadute nelle ultime ore, il campo sportivo di Casola Valsegno è franato. Metà campo è letteralmente crollato nel letto del fiume Segno. Al momento non risulta che vi siano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Casola Valsegno. Al momento si sta cercando di mettere in salvo alcuni animali, tre cani e un cavallo rimasti intrappolati nell'area coinvolta dal crollo. Problematica la viabilità, in particolare il viaccerro al momento è stata chiusa. Sorvegliato speciale il fiume Segno. A breve ulteriori aggiornamenti.